Un consiglio che potrei dare a una ragazza che vuole approcciarsi a una carriera simile alla mia è sicuramente quello di cogliere ogni occasione cioè di cogliere ogni esperienza anche se sai che quella non è la direzione verso cui punti in modo specifico ma appunto cogliere ogni occasione che ci si pone davanti e sforzarsi di estrapolare da quell'esperienza una piccola conoscenza aggiuntiva che ti dà appunto quel valore aggiunto per arrivare poi al tuo traguardo finale